Con grande piacere oggi abbiamo consegnato i premi che Anfogo in collaborazione con Anci Piemonte ha assegnato a tante amministrazioni sia del Piemonte che amministrazioni che hanno rappresentato tutta Italia. Progetti di comuni innovativi, è stata una giornata bella, interessante, abbiamo visto i volti sorridenti e pieni di soddisfazione di chi opera nel pubblico con la capacità di saper progettare con uno sguardo attento al futuro per rispondere ai bisogni del cittadino. Ottava edizione del premio Piemonte Innovazione e Sviluppo, terza edizione nazionale, grande soddisfazione per aver raccolto anche quest'anno 122 progetti, quindi siamo andati oltre anche gli anni passati, progetti oltretutto di un grande valore che arrivavano da tutti i comuni sia piccoli sia medi ma anche dalle grandi città. Quindi un buon risultato e soprattutto un messaggio nei confronti del paese che crescono sempre le smart city sicuramente ma crescono anche i piccoli paesi e crescono nell'innovazione e nella consapevolezza che il processo di digitalizzazione nel nostro paese è inevitabile. Otto edizioni di Piemonte Innovazione, ancora una volta la risposta dei comuni piemontesi e non solo è stata entusiasmante, progetti innovativi capaci di guardare al futuro, capaci di mettere al centro le comunità locali. Come Anci Piemonte siamo molto soddisfatti e l'obiettivo è quello di crescere ancora in vista del 2025.